Ricordami che cosa fate qui. Acquisto e vendo un'ampia varietà di merci. In più, ho parecchi legami con numerosi altri mercanti, il che vuol dire che potrei procurarti quasi qualsiasi cosa tu voglia. Però non posso fare molto se non ho un posto per lavorare. Se tu riuscissi a realizzarne uno, potrei iniziare fin da subito. Devo andare, stammi bene. È sempre un piacere, Eivor. Non ricordo, cosa vendete qui? Quando cacci qualche animale, portalo qui. E se catturi qualcosa di molto speciale, sarò lieto di farne un trofeo. Ma non posso fare molto finché non mi costruisci un posto in cui lavorare. Non concerò pelli su tavoli improvvisati e sporchi. Ora devo andare. A presto. Salutami Petra se la vedi. Grazie. 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 Grazie.